Il modulo EC705 è dedicato ai certificatori energetici che hanno la necessità di compilare e stampare l'attestato di certificazione energetica in conformità con le linee guida nazionali del 2009. Il modulo EC705 funziona solo in abbinamento al modulo base EC700 che consente di valutare le prestazioni energetiche degli edifici invernali ed estive in conformità alle specifiche tecniche un'ITS 11300 parte prima, seconda, terza e quarta. Per scegliere il regime normativo da dotare per la redazione dell'attestato di certificazione energetica, è necessario selezionare l'apposita scheda nella maschera dati generali. Se si è in possesso dei moduli regionali per le regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e per la provincia di Trento, sarà possibile scegliere in alternativa anche le relative disposizioni regionali. Dopo aver compilato tutti i dati richiesti nel programma EC700 per il calcolo dell'involucro e dell'impianto, si accede alla maschera Attestate energetici per visualizzare la tabella contenente l'elenco delle zone presenti all'interno del lavoro. Bisogna come prima cosa scegliere se l'attestato di certificazione nazionale verrà compilato per edificio o per zone. Nel caso di riscaldamento centralizzato, come quello visualizzato, possiamo infatti emettere un solo certificato per l'intero sistema edificio-impianto oppure tanti certificati quante sono le zone inserite. Selezionando Edificio nella barra Multifunzione, si procede alla compilazione di un unico documento riferito all'intero immobile. In questo caso, nell'albero sarà presente un unico nodo denominato Edificio. Nel caso di compilazione per zone, si procede alla creazione di tanti documenti quanti sono le zone stesse. In questo caso, nell'albero sarà presente un nodo per ogni zona presente nel lavoro. Nel caso visualizzato, di certificato per singola zona in presenza di riscaldamento centralizzato, il programma permette di scegliere come verrà suddiviso tra le varie unità abitative l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, che la normativa calcola come unico valore per l'intero sistema edificio-impianto. Sono possibili le seguenti opzioni. Suddivisione in base all'energia utile, in base alla potenza termica, in base alla superficie riscaldata o con unità di ripartizione già nota. Selezionando una zona sull'albero di navigazione, comparirà la maschera riportante l'attestato di certificazione energetica. La compilazione risulta facilitata dalla particolare interfaccia grafica, che consente di operare direttamente sui modelli previsti dall'Allegato 6, per edifici residenziali, e dall'Allegato 7, per edifici non residenziali, delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Nel documento, alcuni dati sono calcolati già automaticamente dal programma EC700, in funzione delle caratteristiche dell'involucro e dell'impianto inserite nel lavoro. Sono questi i campi a sfondo giallo. Altri devono essere compilati a cura del professionista. L'opzione Evidenzia dati da compilare nella barra multifunzione permette di evidenziare in rosso tutti i dati da inserire a cura dell'utente per la completa compilazione dell'attestato di certificazione energetica. E' quindi sufficiente sfogliare le varie pagine tramite gli appositi comandi e compilare i dati evidenziati in rosso. Nel caso si scelga la compilazione per zone, la funzione Copia dati per zona consente di copiare tutti i dati descrittivi dell'attestato di certificazione energetica da una zona all'altra, con l'eccezione del numero del certificato, dei dati relativi al proprietario dell'unità immobiliare, del valore della prestazione energetica raggiungibile e del tempo di ritorno dell'intervento. Per stampare un formato RTF i documenti appena illustrati ed aprirli con tutti gli editor di testi, è sufficiente cliccare su Esporta nella barra multifunzione e quindi selezionare il documento richiesto. Nel caso di certificato emesso per singola zona, ci sarà anche la possibilità di scegliere se stampare il certificato solo per la zona selezionata o per tutte le zone che compongono l'edificio.